l'anno lo abbiamo completato anche alla grande secondo me siamo andati abbastanza bene siamo sempre qui su FIFA 20 carriera donatore crotone quindi partiamo con un nuovo anno con nuovi scommesse e forse qualche certezza dipende qualche consiglio me l'avete già dato però dobbiamo fare un pochettino aumentare il budget per capire più che altro verso che tipo di calciatore possiamo orientarci se noi dobbiamo prendere uno più forte al centrocampo o forse uno più forte a difesa perché è proprio il centrale di difesa che secondo me è un po' scadente non è male Ranieri però non ci dà tanta certezza vabbè però dobbiamo secondo me accrescere un po' di alternative ne abbiamo poche comunque la dirigenza ha come obiettivi raggiungi i quarti di finale quindi si è messa qualche obiettivo un po' più alto qualifica per la UEFA Champions League Coppa Nazionale raggiungi i quarti vabbè non dovrebbero essere abbastanza difficili crescita dei giovani infatti vogliamo aumentare il budget vabbè successo continuo in Italia UEFA Champions League raggiungi i quarti di finale successo in patria vabbè diciamo che gli obiettivi dovrebbero essere prima la nostra portata infatti dire il budget ma se no è qualcosa qui aumenta perché poi pian piano dobbiamo ancora avere i vari premi qualcosa la dovremmo sicuramente becchiare abbiamo scelto anche il campionato però mi vorrei occupare anche di un'altra cosa gli altri li abbiamo già presi tra l'altro poi dobbiamo anche mandarli in prestito volevo prendere qualcuno di nuovo sinceramente magari anche due qualcuno di bravo eccolo qua portoghese questo prende 4 milioni costa se potete è parecchio però magari ci scopra sempre in Portogallo perché il problema è che in pratica o prendiamo lui o gli altri sono veramente scarsi cioè quello un pochettino più abbordabile potrebbe essere George Mavrodis però praticamente è greco dove lo mandiamo? in Grecia questo non capisce niente Thiago Abreu vai prendiamo questo sicuramente dove lo mandiamo? fa eseguire giocatori lo mandiamo anche lui Mereles mi pare che è portoghese lo mandiamo in Portogallo perché giustamente in Portogallo è la zona che ci dovrebbe più interessare io lo voglio mandare in Asia non mi dite niente però vorrei un bel cinese bravo forte e competente ok lo mandiamo nove mesi in Cina mamma mia tipo ala io prenderei una bella ala forte fisicamente regista portiere no 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 voglio uno veloce voglio un'ala vai è già volato vai vattene in Cina lo mandiamo in Cina allora ufficio cerca noi provazioni in Cina nove mesi per il momento ne ho scelto soltanto uno budget già sta un pochettino decrescendo non fa niente abbiamo scelto il campionato mi vorrei occupare anche un po' dei giocatori che possiamo mandare nella lista dei prestiti iniziamo da questo sta ancora in prestito panera me lo voglio tenere perché lo stanno potenzialo tantissimo questo lo manderei in prestito sinceramente non credo giurato sta ancora in prestito defensa se il nostro miliotto manco per dirlo a villa in 58 18 anni no lo mando in prestito dai questo può salire anche tanto perché barrera barrera c'ha i 19 anni 63 questo potrebbe non essere male me lo tengo ancora poi vediamo che in 63 c'è entrato c'è stato visto offensivo verdeio non era male 17 anni questo lo manda ancora in prestito così lo mandiamo e lo facciamo crescere ramos 56 mamma mia questo pure scherzino però 17 forse è più forte quell'altro lopez 66 19 anni questo cresce raga questo cresce questo 16 anni questo lo mandiamo sicuramente ah già sta in prestito porca miseria escobar 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 te ne potresti anche andare secondo me agista questa presse 18 anni 69 questo no no questo ce lo teniamo questo lo faccio salire esterno destro alla destra questo sarà l'anno di vill'alba sicuramente questi stanno in prestito ma non era godin no allora sono due i forti praticamente come alla destra l'uno 19 l'altro è vill'alba secondo me più forte vill'alba in 69 godin potremmo andare più in prestito godin sinceramente perché c'è è pure il più grande vill'alba prestes 70 oh ma tutte ale però porca allora godin lo metto alla lista prestiti abbiamo pure dei prestes che pure è forte in 70 magari se sposo tra marcovich marcovich non mi dite niente ma lo mettiamo anche lui in prestito cargo no aspetta aspetta 68 attaccante rimuovi dai prestiti dai vediamo duric duric list trasferimenti duric ce lo vendiamo è stato un errore duric cargo invece lo mettiamo no se ne va sicuramente un po' di scelte le abbiamo fatte ora però direi di andare un pochettino avanti perché dobbiamo affrontare la prima partita aspetta qua c'è l'allenamento quindi vediamo di non farcelo perdere chi era quello alla forte quante domande all'ufficio perché ah vedi aumento budget mercato fantastico ulteriori 35 per il mercato ma questo ce l'avevi già dato che fai vale ah il chat giocatore verdeio grazie a questo per aver giocato in prestito mi farà bene bravo verdeio siamo d'accordo dunque ramos che io pensavo che fosse il nuovo seggio ramos invece non lo è siamo d'accordo dunque avila anche tu sei contento tutti contenti di andare in prestito fa piacere vuol dire che non avete piacere a restare qua vabbè fa niente chi è questa squadra ah l'espagnolo doveva fare la prima partita offerta per trasferimento dice porca miseria ci hanno offerto 54 milioni per esposito eh questa è una bella cifra però mi avete detto di lavorarci su voglio fare una partita e poi magari vediamo come ci mettiamo in campo per questa partita mamma che magliette che c'avete ok barbutto si sta facendo vecchietto eh barbutto quindi attenzione allora ci abbiamo sicuramente chi era me lo voglio portare Villalba perché secondo me Villalba potrebbe non essere male è un 69 è un esterno io una partitella gliela farei fare così vediamo anche come si comporta panera pure sta qua io giocherei un po' sul sicuro poi magari facciamo qualche cambio sulla carta penso che siamo più forti no non lo so no è mia ma che mazzo oh anno nuovo sfortuna sempre la stessa eh quella non cambia mai ok non mi andare in fuori gioco oh non ci ha creduto secondo me eh ok è andato è andato è andato e allora io non ho capito Williams se parti parti non è che ti fermi no te lo sei perso non c'è nessuno in mezzo ma che mazzo cioè non c'è niente da fare sempre un mazzo tremendo guarda riesci a fare un grande intervento in scivolata ma non serve a niente perché tanto loro la pigliano lo stesso guarda là guarda che scivolata che abbiamo fatto cioè gliel'ho piazzata meglio gliel'ho piazzata gliel'ho fatto il rigore aspetta ce la fai in posizione guarda vedi non c'è niente da fare noi ci abbiamo sempre una sfortuna avete visto quello tira mi brecca l'avversario dai si fuori gioco pure voi sapete siamo sempre abbastanza aggressivo con l'esposito però aia fortire la poteva andare incontro i piedi la enzo enzo va bene aia questi non sono forti ma che pedaglia qui ha messo forza barbustare fuori gioco non mi dire ok facciamo sognare a williams bravo andiamo sul sicuro che è meglio io a volte dovrei spazzare e non lo faccio non so perché questo non è fallo per esempio secondo me è fallo quello campagna ma sei no no cioè questi non ho giocato ma se si lo metti a giocare cioè incredibile guarda enzo ok no bravo bravo vai che buona vai barbust vai no no ma porca no ah dai ma come si fa ma porca di quella misera porca c'è due colpi così mi sono portato la palla barbust mi sono portato la palla ma che ha fatto vabbè cioè questi stanno palleggiando la venta spazio per il cross palla che resta in zona pericolosa ma perché bravo più a smarcarci vabbè 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 ahhh quando partiamo così non lo so cioè ma dobbiamo fare un po' più sul serio perché sennò qua non ce la facciamo a recuperare l'offerno ha vinto no si ha vinto 1-0 mi pare che si qualificano le prime due comunque quindi l'importante è riuscire a vincere anche le successive sì dobbiamo soltanto sperare che magari qualcun altro inizia un po' a perdere allora Brinton ok contro Crotone e poi abbiamo l'offerno e l'espagnolo comunque due se ne qualificano quindi tranquilli perché se vinciamo Brinton non ci dovrebbe dar nome poi dobbiamo arrivare spagnolo diciamo che l'espagnolo dovrebbe vincere così siamo un pochettino più tranquilli brutta maglietta facciamo così dai così giocamo meglio allora il problema è che esposito lo vorrei un po' che dobbiamo fare molte partite ravvicinate quindi facciamo giocare sicuramente panzo così facciamo riposare vajucicic che panzo non gioca male crociato lo facciamo giocare faccio riposare Demences ci mettiamo Mané Redan non mi dia niente magari ti faccio entrare nel secondo tempo perché Williams è troppo caldo Williams e poi io volevo provare anche l'abbiamo già messo no non messo in partita no no come si chiama Villalba era così Villalba no è Deprestes che è più forte ho sbagliato Deprestes io me lo vorrei un po' provare perché così vediamo se riusciamo a salire un po' dai Demences magari lo facciamo riposare Demences e Deprestes sono fratelli ma non credo c'è solo il D davanti dai mi raccomando se riusciamo a segnare subito vai Barmutto vai aspetta e andiamo Williams Williams è fortissimo c'ha un senso della posizione Williams che è spettacolare cioè è un 71 poi è un 71 lasciamo perdere che il 71 è un numero particolare però c'è un senso della posizione guarda come si stacca guarda cioè è forte sto ragazzo ma che grande acquisto allora ah questo è fallo ma è fallo bravo Ames bravo stup e vai stup e vai il mazzo comunque quello era fallo quello su Ames guarda che cavolo di parata che ha fatto parbutto ah c'è quello che ci difende mannaccia oh ma è scatenato Williams è scatenato ma avete visto che bordata che bordata occhio che questa è una brutta partita eh no ok aspetta buona buona barbutta ok mamma mia che botta e allora ci dobbiamo però vai alla distanza e vabbè mi dispiace ma finalmente Ames ha fatto un tiro spettacolare tanto di cappello guardali che bordata che bordata boom vabbè portiere qua sbagliato ok ok no portiere grande portiere ma che porca misera portiere attenta qui la lettura del difensore di non farci subire il gol occhio no ma dai però così non vale però dai ma che calcio di rigore si vabbè ma scusate la palla era mia quello perde la palla è normale guarda lì si è buttato si è buttato addosso a noi cioè la palla non la prendeva l'ho buttato a destra dai che mazzo vabbè mi serve una grande è fallo ci ha alzato da terra ma che è il il fratello di Williams denier allora fammi vedere se bar oh non gliela do barbutta quello barbutta sbaglia vediamo se riusciamo a capire come si tira ma porca miseria aveva fatto mannaggia aveva fatto una battuta esagerata occhio ottima la lettura del difensore che ha capito no si occhio occhio ragazzi dovete marcare però eh buongiorno capiremo che cavolo voleva fare Dani ma poi tornava in attacco che brutto tiro che mi hai fatto è vero veramente inguardabile ok dovrebbe essere nostra e vai però portiere no portiere ma è completamente fuori vabbè ma è un angolo regalato portiere è un angolo regalato si è veramente scorretto vabbè abbiamo vinto meno male con sofferenza però qualche occasione in più l'abbiamo avuta alla fine ci hanno un po' rotto le scale fa sette tiri abbiamo fatto vabbè chi ha fatto l'espagnolo ha perso 2 a 0 ok quindi bene così perché vuol dire che stiamo a pari merito ah no parlare spagnolo non pare che scontri diretti quindi noi praticamente dobbiamo vedere che succede perché siamo terzi ma friscio che vuole mi chiede l'offerta questo è basso non esposio e la so ma mi dispiace ma purtroppo e ora che succede praticamente perché se l'espagnolo vincerà sicuramente andrà a 6 noi dobbiamo vuol dire che alla fine usciamo per sempre questa storia vabbè con l'off dobbiamo vincere che è un po' più propositivo in attacco e vediamo di giocare così dai no aspetta io William se non lo voglio tenere sta segnando sempre Raydan non mi dì niente però dovremmo sperare che l'espagnolo perda qui occhio andiamoci 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 ok vai esposito vai vai esposito vai dai meno male comunque è sempre lui che attacca di più esposito mi ha un po' deluso mi sarei aspettato vedi si è fatto mantenere è impossibile sbagliare comunque abbiamo segnato è importante ok ok vai 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 oh questo ormai segna soltanto lui ormai segna solo lui segna solo lui ragazzi è incredibile cioè ma poi ti hai visto con che capacità boom boom da mazzate dappertutto guarda lì questa è una brutta palla di barbut secondo me se non subiamo lo dico dopo balotelli dai ricordati che tu sei sempre italiano squadra io non lo so guarda io non lo so cioè quando è così non vabbè da fare non andiamo troppo in profondità vai e vai bravissimo Esposito così mi piace vai uno loro e uno noi vai 3 a 1 questi pensavano ok è buona ricca vai è buona è buona non ce la fa non ce la fa è fallo la messa vai e manco segno quello non è fallo guarda che ha ammazzato a qualcuno è là comunque allora facciamo una cosa non rischiamo non rischiamo mi raccomando guarda Lorenzo guarda Lorenzo come si propone vai da nel lato vai da nel lato ma sempre c'è entrare ma siete scemi perché tiate sempre centrale mannaccia si segna ma siamo fottuti va bene anche un fallo ok bravo portiere vediamo che succede diciamo 3 a 1 dovrebbe essere se l'espagnolo è stata che ha fatto l'espagnolo vabbè ha perso 4 a 1 dai penso che siamo passati cioè perché l'espagnolo ha rotto le scuole soltanto a noi ma lo so io a volte non le capisco queste partite sì comunque siamo in semifinale ufficio premio torneo 1 milione e 3 il budget come sta andando sta crescendo vabbè comunque questo è il budget secondo me qualcosina ancora potrebbe arrivare speriamo così ci decoriamo su che cosa dobbiamo acquistare e chi dobbiamo vendere ma spero nessuno ci vediamo se non è possibile bye